Su, 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 ballare e ridere Lai, 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 lai Benvenuti cari amici di Sicilia Cabaret Nuova anteprima di una nuovissima puntata di Sicilia Cabaret Come potete vedere siamo all'esterno del nostro Teatro Giolli Ovviamente è il luogo quest'anno nuovo delle nostre registrazioni Come potete vedere già la gente è qui Guardate, salutate un attimo tutto il pubblico di Sicilia Cabaret Non fate i cagnoli, mi raccomando Ragazzi è la prima volta che venite Il vostro personaggio preferito? Il me A parte no Piero Dens Venite tutti da Palermo? Da dove venite? Da Vallelunga Ci hanno messo tanto per venire E allora venite, venite Entriamo dentro e andiamo a scoprire questo teatro Guardiamo la biglietteria Come potete vedere le nostre ragazze Che stanno ultimando gli ultimi dettagli Per fare entrare alle persone Le nostre hostess E si scende giù Eccoci qua nei camerini Guardate Come si preparano i comici di Sicilia Cabaret Giocando a briscole Guardate che bella mano ti ha Sei chiamando a coppia A coppia Sei tasso sei Salvo 92 Occhio e bume Occhio e bume Ma che cosa ha detto? Cioè siete andati dicendo giornalisti C'è giornalisti ha detto C'è giornalisti Ragazzi questi sono i comici di Sicilia Cabaret Che si stanno preparando Abbiamo anche chi lavora dietro le quinte Conosciamo le persone Antonio Cangelosi Buonasera Uno dei nostri Diciamo tutto fare Del Sicilia Cabaret Dimmi una cosa Antonio Lo puoi dire agli amici di Sicilia Cabaret Chi è il tuo personaggio preferito? Assolutamente Danilo lo so Amo Danilo È il mio personaggio preferito Grazie E andiamo A vedere come si preparano I nostri amici Guardate chi c'è Pina Pina Bravo Ma bella verità Eccolo qua Se stanno andando Bravo Si può campare Bravo Bravo Mentre c'è chi si sta truccando E si sta ovviamente preparando Si sta facendo pello Come il nostro Davide Tuse Il nostro marco Con il parrucchiere Sto carendo malato E vieni qua Andiamo a vedere come si può fare Il nostro Gesù La nostra mimma Eccolo Molto serio Anche nel pettinarsi Vuoi esprimere la mia opinione? Si Ma guarda Ma io mi sento sprecato In tutta questa situazione Perché come minimo Io dovrei fare In un modello Come minimo Come minimo Fotomodello Ma siccome sono in mezzo A questa banda di brutti Uno bello ci voleva E sono io Lo dico ad altavolta L'unico bello di questo Ma una domanda Che si fa tutta la sua cabaret Perché ti vede Tutti i giovedì Ma te aspetti il giovedì Per farti i capelli E per farti il bello Oppure lo sei tutte le settimane Ma io non vado dal barbiere Da almeno 25 anni Quindi io sono più fritto Guarda ti posso dire una cosa Ma sono strano Ti sembra strano Ma anch'io Da 25 anni Non vado dal barbiere Quindi Vabbè ma tu hai le motivazioni Io dobbiamo andarci Ecco hai visto Mi stanno facendo Mi stanno agghindando Mi stanno agghindando Mi stanno agghindando I nostri pari occhieri di Xtreme Il nostro sponsor della transmissione Totò invece sta aspettando Che lo facciano bello E ne hai da aspettare Totò In realtà non è così Già sono bello di mio Io ho già finito con loro Perché l'unico trattamento Che mi fanno È quello appunto Di farmi i capelli Proprio proprio Farmi i capelli Ovvero Quelli che non ho Loro fanno Una magia E mi spuntano i capelli E approfitto Dell'immagine di Totò Per salutare Tutti gli amici di Pioppo Che ci seguono in massa Bene Allora andiamo Andiamo a vedere Questo è il repatto fumatorio Ciao 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 mamma Tra l'altro C'è il nostro Batman Che Come stai facendo? Stai fumando? Stai messi E non si fuma Non si fuma Lorenzo Pasqua Lorenzo Che scrive le battute Di quasi tutti i comici Di Sicilia Cabaret Sono quelle che non funzionano Sono quelle che non funzionano Qual è il tuo personaggio preferito? Per chi ami scrivere? Beh è una bella sfida Mi piace scrivere per Sabo Zahud Sabo Zahud Proprio mi tira fuori Il peggio di me Nella migliore Anche perché Anche perché c'è la musica E quando c'è la musica di mezzo Magari ha uno stimolo in più Esatto Per poter far bene Soprattutto la mattina Che ho molti più stimoli Le canzoni vengono così E allora Andiamo a vedere Come sta Guardiamo In diretta Mi stanno per microfonare Perché stiamo per iniziare Eccolo Questo è il nostro Vincenzo Lamantina Il nostro microfonista Saluta Saluta Dimmi una cosa Vincenzo Visto che sei qua Approfittiamone Da quant'è che lavori Da quant'è che lavori Con Sicilia Cabaret? Più o meno Due annetti Due annetti E chi è il tuo personaggio preferito? Il tuo personaggio preferito È Flip Piccini facciano la gara Ovviamente Il mago Flip E il mammo Bene Io sono microfonato Andiamo a dare Un ultimo saluto Agli amici Che sono Vincenzo Mentre c'è Qui Propriamente Raccoglie un po' di soldi Lele Mosina Il grande Lele Mosina Lele Mosina Insieme a Lele Mora Diciamo che Ivan Fiore è il mago Delle battute in rima Quindi Il mago in rima Perché lo pensate prima È il gioco della rima Buonamattina Vincenzo 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 Eccolo qua Che poco fa Ti hanno voluto salutare Direttamente Da Da Saxarubra No da Saxarubra Direttamente dall'esterno C'è la gente Che ti salutava Il personaggio preferito È stato votato Come Pierodense Quindi Pierodense È il personaggio preferito Del pubblico No Delle persone che stavano fuori Che erano due Che non è il pubblico È il pubblico E allora Mi saluto il pubblico E ti saluto il pubblico Anche Zio Greggio E lauzia Zio Greggio E lauzia Ma che mi fai fare Mi fai fare Stiscia la notizia Eh Va bene Allora Con Pierodense Andiamo subito a vedere No non vengo Io non vengo Guardate Ciao mammo Guardatelo E noi accettiamo anche persone Che hanno più di 50 anni E che hanno problemi sociali L'assistenza sociale ci ha detto Lo tenete con voi Perché a casa Combina danni Quindi è con noi Nino Padisteri Che vuoi salutare a chi? A Carola Loviozzi È andato via È andato via Siamo nella fase finale Qua da qua Poi si accede direttamente al palco Come potete vedere Abbiamo anche qualche manichino Che abbiamo rubato Direttamente dal ritorno al futuro Il nostro doc Eccolo qua La nostra Una delle nostre assistenti Stefania Lagna Famosa sorella Di Gianni Di Gianni Lo possiamo dire Ma che state facendo ragazzi? Che state facendo? Siamo amici Perché questa è una squadra Siamo tutti felicitati Ci vogliamo bene Viva Sicilia Cabarelli Viva Sicilia Cabarelli Stacca Stacca Andiamo qua Andiamo qua Una persona seria Non perché sia mio figlio Nelle passate edizioni Lo è stato Adesso è il mio amante No Il nostro Daniele Vespettino Nonché Autore Sì scrivo In realtà Stampo le scalette Stampo le scalette Guardalo Guardalo Ma statti le scalette Anche per lui Anche Ingovinate l'intruso Ingovinate l'intruso Con quel motto mio E di Danilo E pochi capelli Ma molto Vabbè Pochi capelli Ma siamo lo stesso belli Claudione Oltre a Sicilia Cabarelli Qual è la tua passione Il tuo hobby preferito Io ho bisogno di lavorare Qualcuno mi può aiutare Io lo dico io Qual è il tuo hobby preferito Andare allo stade A vedere il palermo E non solo E qual è? Vendo pure il ghiaccio E volete sapere Chi è il mio autore Visto che lei Che è stato Mogolle Ragazzi A noi ci scrive Pezzi Mogolle In Tremità Che stanno microponando Reduce dei successi pochi di Hollywood Dopo il successo Di Bohemian Rhapsody Sì Allora io MAMAAAAAA Allora Emanuele Io voglio dire una cosa Allora tu che hai ormai Una carriera Decennale E hai fatto Tante trasmissioni Così bravo Sì sto facendo un po' Tipo La vita in direzza Ok Tante trasmissioni A chi ti ispiri Per i tuoi personaggi Dove prendi Phi Per i tuoi personaggi la gente così conosciamo un po' di più il comico vabbè, guardandomi a Rocco Siffredi infatti faccio sempre lo sapete perché si ispira a Rocco Siffredi? perché lui è un comico penetrante bravo Danilo Locisa e tu? aspetta, perché che lo fanno con Danilo l'ha fatto a tutti, e tu a chi ti ispiro? io mi ispiro a De Manuene perché vorrei essere magro come lui ma non ci sia, sto cercando di fare palestra io voglio ingrassare allora vieni qua, lanciamo subito la puntata leggendo Sicilia Cabaret guardate, stiamo per iniziare una nuova puntata vieni qua, ragazzi, restate collegati come si dice, attaccati proprio ai teleschermi, ficcicati usiamo i termini che ha tanto chissi allora, andate a canciare il canale giusto, perché stiamo iniziando una nuova puntata ricca di emozioni, di risate diciamo produttiva, anche perché magari ci seguono che ne so, dall'inghilterra dall'inghilterra, ah ok, in inglese ok, ragazzi, restate in atto perché ci siamo iniziati molto presto in spagnolo in spagnolo, stiamo qui stiamo pronti per fare pensare la trasmissione francese ragazzi, non cambiate le chanel perché ci siamo iniziati con la nostra emissione siciliano siciliano, stiamo iniziando un canciate siamo qui Sicilia Cabaret Francia, Colombia stiamo iniziando stiamo iniziando stiamo iniziando buonasera a tutti e benvenuti dal teatro jolly di Palermo per un'altra puntata di Sicilia Cabaret per un'altra puntata di Babbio per un'altra puntata anche di informazione siamo un programma di informazione siamo un programma di informazione infatti il telegiornale da qui che è? posso... telegiornale da qui da qui? sì va bene ti giuro questa è l'anteprima ricordiamo tra poco inizia il programma quindi ci facciamo questa parentesi con questo cretino buonasera a tutti sono Alessandro Cecchi Pavone benvenuti a ti giuro ma parliamo subito entriamo subito nel vivo del nostro telegiornale e parliamo di occupazione abusiva di casa ma come ne parli con sto coso in te e lo facciamo con la nostra Serena Attratti è di qua Serena Attratti benvenuti nella rubrica folklore e cultura del TG1 sono sempre io la vostra Serena Attratti oggi parleremo di un problema noto a tutti l'occupazione abusiva delle case ma cerchiamo di capire chi ci abita qui proviamo a sentire gli occupanti vedete venite non si scrive così fatti permesso? ma guarda ma guarda ma guarda ma guarda ma guarda ma guarda volevamo soltanto sapere ma guarda ma guarda la polizia tu non sai come sta? come sta? avete visto? ci hanno cacciato dalla vostra Serena Attratti è tutto linea allo studio l'importante è che non ti sei fatta niente che è? che è? no ma chi è? no ma chi è? non ti è? casu oi sono ma chi è? ma chi è? niente umano non hai fuoco palazzo ma che no? ma lunedì ma lunedì cammina ma lunedì ma lunedì quente basta e passiamo subito a una notizia flash ok Sequestrato un altro bene alla mafia, a me soggio non c'è risiocchio neanche, ciao Una notizia flash o una notizia flash? Ma parliamo di vandalismo e lo facciamo col nostro 100% Brunello A borraccia, amici di ti giuro mi trovo qui in un caso di vandalismo Come potete vedere alle mie spalle qua c'è una scritta monkey che è stata scritta in maniera sbagliata Infatti lui ha dovuto mettere la K a posto del CH e la colpa di chi è? Dei vandali che hanno messo questi tubi Ma grazie all'intervento noi leveremo questi tubi, monteremo delle impalcature e la gente potrà scrivere in tutto questo palazzo Immaginate quante frasi d'amore, soprattutto immaginatevi quante CH Darò più spazio alla grammatica corretta, darò più spazio alla libertà di espressione Perché lo so, anche voi avete bisogno di me, non ringraziatemi Da Palermo è tutto, a voi la linea TG Grazie, grazie A 100% Brunello e adesso Che c'è? Niente, mi immedesimo E adesso passiamo alla nuova rubrica Una nuova rubrica, questa di cultura, non volgare Con il nostro Umberto Eco Si parla di libri? Libri, bellissimo Gentili lettori, lettrici e lettrauti Dal vostro Roberto Eco Buonasera Era, era, era No, non è che l'Eco era La lettura che vi consiglio questa settimana è una lettura carica di suspense, di tensione Che porterà il lettore a interrogarsi su quei siti quali Come mai, perché, ma soprattutto come è possibile Che libro è? La bolletta era la luce 204 euro, che sto cazzo vicino Casa attacqua a casa mia, sto gran f***o Ma allora Suo padre è un f***o Suo frate, ancora più testo Ma lei dovrebbe Ma dovrebbe partire col tu Ma cosa è? Ma questo Passiamo subito alle previsioni del meteo Buonasera e benvenuti alle previsioni del tempo Diamo uno sguardo generale alle condizioni in Sicilia Al nord è prevista settimana di maltempo Tranne un giorno di sole in via del tutto eccezionale Quindi chi abita in questa via potrà stendere tranquillamente il bucato Al sud temperature superiori ai 38 gradi Basta una tachipirina e tutto tornerà come prima E ti ho fatto anche la rima Ma che cosa ce n'è? Andiamo a vedere alcuni comuni caratterizzati da fenomeni particolari Santa Cristina gela Copritela prima che si ammala Noto, noto che il tempo è buono Pachino, piove? Assai? No, Pachino, Pachino Ma che si Dal meteo è tutto La linea torna al Tg Uro! E dal Tg1 è tutto ma devo scappare mi dispiace ma ne devo andare Ma che stai facendo? Marco Travaglio Si va in pubblicità e si ritorna subito dopo con il blocco dedicato ai bambini E con il pubblico di Sicilia Campanè Va bene Rieccoci, rieccoci Facciamo, diamo subito un ritmo alla trasmissione Parliamo di genitori, parliamo di papà e parliamo con il nostro mammo Buonasera Io sono venuto qua per dire una cosa ai papà Non vi dovete scoraggiare se rimanete a casa soli coi vostri figli Perché ci vuole tanta pazienza proprio come ce l'ho io Calmo Mio figlio quando è con me gioia mia neanche si muove Si fa o papà Quante volte ti ho detto che ti devi togliere questo vizio bruttissimo di fare ribelle Mi devi fare pentire che mi sono sposato Ora mi facesse scannare come un cazzo Mamma mario d'azzo è come un gammazzo Boh Sa careno malato Ma deve stare calmo Guarda il suo figlio che è bellino con le telecamere Se non vuoi uscire pazzo con tuo figlio devi creare un buon legame Cioè? Le staccare nella seggia No Mi sono ripreso La compagnia è bella ma adesso me ne devo andare Perché c'è la zia maria che ha 90 anni sola con mio figlio Ce ne combina di tutti i colori Però ci vuole bene Si fa o papà Ma non vedi che a te Cristiano non puoi stare a gritta Chi cappa si si ce levo vai su ne vede cammina Ma che fa? Ma che fa? Ora non vedi che a te la pezzetto Ma non vede cammina No ma che c'è il sacco Ma che vedi cammina E poi a te la dà i bambini sono la cosa più bella bene bene come vedete questo è il blocco verde ossia il blocco dedicato ai bambini e ai giovani e ai più giovani e quindi però mi fa piacere vedere che mio nipote adesso è così popolare c'è una città rovinata tu stava domandando tu sei contento ma sei contento perché sei diventato famoso oppure perché finalmente puoi parlare e tagliare l'ultima sigla perché finalmente posso parlare bellissimo non ho frecchio niente col pubblico siamo diventati amici sì mi domando pure dei favò sì ma poi sono preparati si guarda me lo pensate o l'accendì? no e tutti chi poterà così? no hanno chiuso l'accento l'ho troppo bello mio nipote come sta andando? bene bene però devo ringraziarli perché grazie a loro Instagram mi ha scoppiato no sì ma in caso in che tutti vogliono stare con me praticamente ho scritto un gruppo di amici viene a giocare a casa mia e gli ho mandato la posizione certo ho scritto un ragazzo viene a giocare a casa mia e gli ho mandato la posizione gli ho scritto una ragazza viene a giocare a casa mia e ti ha mandato la posizione no ma non la sua pace no mi ha dato uno schia oh oh perché? e chi schiaffia una nuova? ma mi piace questa cosa da morire posso provare pure io? sì lo provo aspetta provo provo io su ma che schiaffia ma cane sta toccando super ma che vergogne ma dimmi insomma come sta andando poi per il resto bene bene devi sapere che con le ragazze io sto cercando anche di migliorare e non le chiamo più Giorgio dici che è brutto chiamarle Giorgio bravo questa è una cosa bella così abbiamo concluso e l'altra volta c'è una ragazza girata di spalle l'ho chiamata tesoro ah e lei si è girata? no ma non come cacò no io l'ho fatto per rimediare ho dovuto chiamare ehi Giorgio 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 27 Giorgio e lei ha recuperato l'ho recuperato e l'ho detto a questi testuali parò sì ok perché sono preparatissimi preparatevi perché questo è il discorso sei un angelo con le A sì ti farei tanti regà sì però rumecati no ma che schifo sei veramente hai dei tratti assai speciali sì te lo dico siamo uguali perché uguali tutto intero? perché io da percepire la vibe una miriade di cambiamenti abbiamo avuto quest'anno attori nuovi attori vecchi ma l'importante voglio che non ci sia ora picchietto fanati al suo applauso ma non sapete neanche chi è vi ho portato Gianni Lattore io sono Gianni 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 Un pubblico altissimo che crede nei testi del cabaret, gli piacciono le parole di tutte le composizioni, lei che veramente ha dei testi importanti nel cabaret, cosa dice lei? Cosa dice tutto il tempo? Gianni sono. Lo dica dieci volte, li faccia ridere. Gianni, 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 Gianni. Gianni ci ho metto io. Bravo Gianni! Che artista completo! Ma quale artista completo? C'è gente, ci sono attori che devono studiare molto per avere questo successo, lei è veramente fortunato. No, veramente Gianni, se non lo dice, se non lo capisce ha problemi il signore, ma ci sono passati i problemi a lei, come il dottore non c'è il dottore, non riceve oggi vero, il suo amico mio è molto bravo, è da molto che aspetta. Ma che non sto aspettando niente? Non siamo dal dottore. Visto che ormai è così popolare a me piacerebbe che lei si presentasse, per dire che si conoscesse anche meglio. Senza problemi, devo dire sono Gianni. No, Gianni lo sappiamo, deve dire altre cose, per esempio, qual è la sua canzone preferita, il suo piatto preferito? Allora, la musica preferita mi piaceva come cantanti Gianni Bella, Gianni Morandi, Gianni Celeste, tutti quelli che si chiamano Gianni. No, anche Claudio Baglioni. Finalmente vi piace quale, di Claudio Baglioni? Mille Gianni di te e di me. Bravo Gianni! Che artista, signor Madragna! Mille Gianni di te e di te! Passeggianni in bicicletta! Sono cantante, non è arrivata ancora il dottore, vero? Non è arrivata mai questo. Piatto preferito? La parmigianna. No, ragazzi, una cosa dove non c'è Gianni non la sa dire lei. Non la sa dire, sono questa cosa, sono difficile. Sono difficile? Sono difficile. Un deficiente. Gianni! Allora, Bruno, basta, e no, e dai! Un artista si rifiuta di fare film e si è rifiutato di fare un film che ha per titolo dopo la mezzanotte. Come mai? Alle nove già dormo. Questa sarebbe una battuta che fa ridere. Oh, bella qua c'è qua. Quando non fa ridere lei che fa? Gusto? L'escamotage. Bravo Gianni! Poesia! La colpa è vostra, la colpa è vostra. Che agenzia, che agenzia. Allora, abbiamo. Abbiamo una letta. Cosa abbiamo? La vogliamo fare. Cosa vogliamo fare? Quello che vuole lei. No, quello che vuoi tu. Diciamo dieci volte Gianni. Che cosa dobbiamo fare? Ho già detto dieci volte. Lei ha detto più di dieci. La lettera delle fan. La lettera delle fan. Vediamo che cosa rischiano le fan. Tu hai fan. Un sacco di fan che mi impoppetto. Eh? Fai Tio! Non si può impopettare. Fai Tio! Non si può impopettare, lo so. Ho detto l'altra volta. Lo sta facendo. Non si deve fare, non si può impopettare, non si può. Lo so, lo so che non si può. Ciao, sono Eva. E io sono Gianni. Come stai? Mi schienacciava l'asma. Giusto. Che stai facendo? Mi piace. Mi piace. Mi piace. Stai mettendo mi piace nel Facebook? Hai fotografia? No, no, non direi. Adesso la porto a cena fuori così la faccio vedere. Bravo, bravo. Allora ti porto a cena fuori, ce ne va a mangiare un panino? Di più. Di più. Una pizza? Di più. No. La carne? Di più. No. Il pesce? No. Guarda, state a casa che c'è solo 10 euro. Bravo, Gianni! Un pezzo... Non ce ne sono. Vabbè, nel 68. L'inaugurazione di Gianni. Sì, quando ero piccolo. Quando ero piccolino. Cioè, prende i pezzi delle edizioni passate. Lei non vuole fare un c***o proprio, vero? No, no. Perché sono così. Sono diventato Gianni. Lo mettiamo alla prova? Allora, facciamo una scena epica. Rocky. Sì, sì. Ha presente il film. Lei arriva e dice, se io posso cambiare, voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. Ok. Ce la facciamo? Ci abbiamo la base? Vai! Non l'ha messa in guantone! Se io posso cambiare! Sì! Tutti possiamo cambiare! Tutto il mondo può cambiare! Sì, però io rimango Gianni! Bravo, Gianni! Ci vediamo dopo la pubblicità! Rieccoci dal teatro Gialli di Palermo per il blocco giallo, il blocco di Sicilia Cabarea. Adesso ci sono delle battute un po' più spinte. Un po' più hot. Poco, poco, poco. Abbiamo levato il bollino dalla faccia di Minafo, insomma, i bambini possono vedere Minafo ma accompagnati, che è importante. Sì, sì, accompagnati. Sei un po' stanco? Sono stanco, siamo all'ottava puntata, poi stiamo facendo anche altri progetti, ragazzi, è veramente stressante, ma ci stiamo facendo in quattro per voi. Per voi, veramente, questa è una cosa. Cioè, calcolate, calcolate che io per registrare questa puntata neanche ho cenato. Ma tu non ti puoi mettere, eh? Chi? Non lo farei più. Con il dottore ci parlavo io. Mi resta, se è stata la colazione, chiuso muore. No. Dice, se tu una mattina sei su sei nove, anziché all'otto muore, non ce la fai, perché non hai il bisogno che ti... Ma allora sono a rischio. Sì, a rischio. Allora registriamo subito questa puntata e poi andiamo a mangiare subito. Sì, ce ne andiamo nella nostra trattoria, quella che fa le cose tipiche siciliane. No, perché queste sia, beh, le stesse cose tipiche siciliane ero e notte, si attaccano, insomma, che è proprio pesante, pesante. Poi io, basta, queste cose tipiche siciliane, io voglio fare nuove esperienze culinarie. Allora, guarda, se vuoi fare delle nuove esperienze culinarie, avevo questa idea. Siccome la prossima settimana dobbiamo andare a Milano, da Cracco, ci facciamo questo aperitivo. Ma lo sai che ci voleva andare da un secco di... Bravo, ci facciamo un aperitivo, due birre, un pezzo di 200 euro l'uno. Quanto? Questa è una nuova esperienza culinaria. Ma io ti risposto di culinaria, lo puoi contare culo in terra. Ma che faccio? Sei tu, cioè abbiamo le cose siciliane. Facciamo così, finiamo di registrare, venite tutti a casa mia, cucino io. No, ti ringrazio. No, perché chi? Ma perché tu non sa cucinare se vede, cioè non è... Che cretino, ogni venerdì viene a mangiare da me. Cosa ti ho insegnato? A fare mie iniezioni di plasil. A diventare un po' più bravo, mi faccio solo. E allora, come spieghi questa cosa che quando cucino tutti mi chiamano barbieri? Perché te carini capite nella paizza. E ogni volta ho piatticchini di pila. Sei bravo tu, allora a cucinare. No, bravo a cucinare. Scusami, no, adesso onestamente, tu vuoi fare un piatto solo, il piatto con la bottarga. Dove l'hai imparato? A casa mia. Perché a casa mia mia madre è la regina della bottarga. T'ha lontà la faccia la battuta. Ma perché deve cadere tutto su mia madre? È che la rispetto. Facciamo una cosa, io facciamo un annuncio al pubblico siciliano. Basta con queste schifezze siciliane. Pazza che i roccali arremenati, ha nel letto fulno, ha pazza che ha noi, ma basta. Ma il panino cammino, si ghiola, pane, panella e crocchè. Eh, per non parlare di cannolo, cassata, sfince. Ma veramente, arancina, frutta di mare, pasta con i ricci, basta. Basta, da domani si mangia il risotto alla milanese. Bravo. Sè! Che sogno malato! Vizia, a doma la riga! I Quattro Busti! Vamo dai, offro io, signora, dai. Dai, fammi offrire a me. No, no, voglio offrire io. Non posso offrire il caffè? Vabbè, fai in soffro io. Raga, vi giuro che questa volta avrei voluto offrire io, solo che avevo 5 euro e le ho perso. Vabbè, allora, Totò, oggi offro io. Che è? Facci il suo santo. No, ho trovato 5 euro. Vamone, un paraccosse. Tanto una tainata qui, no. Questa è mucca. C'è crisi. Hai ragione, non c'è solo caffè perché non si può campare più. Non si può campare più. Bravo. Ma che ti è a dire che a me figlio voleva avere un zoo per bere la scimmia? Non ci posso portare e per farci bere la scimmia lo portava in un esogeno. Ma che ti è a dire che a me si rompì il fuoio? Eh. Fari quale ero pane lo mettiamo a me non si coscerà la nonna. E alla sera invece mangiare lo pane cavolo, ne mangiamo un pane squarato, ne mangiare. Ma che ti è a dire che a me figlia vuole fare danza? Ma siccome cosa sai? Pamorifarla a ballare. A me si è incappato alla biancheria. Ma che ti è a dire che a me un nuovo dottore a me disse che avevo insomma quello che dovevo fare un'alimentazione pulita. Siccome non mi posso accattare niente, poi la polizia è insomma come a far mangiare una saponata. Ma che ti è a dire che a casa si rompì il fuoio, non lo posso accattare e poi asciugare i capi da piccoli da stendolo dal balcone. Ma che ti è a dire che quando eravamo nicchi, io e mio frate avevamo bisogno della calcolatrice. Ma mai non lo potevo accattare e poi a morire a evitare i riscossi, avete un anno che ne calcolamo. Ma che ti è a dire che a me posso accattare i caittini per fare i sicariati? E ultimamente me l'hai fatto con la caittina igienica e mi vennero una cacata. Ma i riscossi che fanno? E te la mente a te ma che ti è a dire che a me figlia vuole fare i spagliati? Non ci posso accattare, per prenderla per fisso sai che faccio? Ah, c'è a chi lazzare i skype? Ma che mi stai a dire? Ah, c'è? Mi chiamano ai nato I quattro gusti! Grandi, grandi! Ma non mi potete sapere che le male lingue e gli invidiosi ci accusano di essere volgari, di non avere stile. Noi non diciamo nulla, rispondiamo a queste accuse con eleganza. Mamma mia ragazzi! La legge adria! Che eleganza! Chi ha me un penciolo, non ti arra! Cioè, come ce l'ha? Ma malissimo! Sono bella! Perché perché è qui? Sono bella! È bella! La gente comune pensa che la parola modella sia sinonimo di perfezione? In realtà la vera bellezza deriva dalle piccole imperfezioni. Bello! Sì, sì, ad esempio la mia collega Nicole è diventata famosa grazie a una pecca sulla guancia grigio scura con peletti sulla parte sovrastante. Un neo! Chiamalo neo! Un neo, sì, esatto. La mia collega Jasmine è diventata famosa grazie a un canino sporgente. Addirittura? Sì, sì, sì. E lei, grazie a che cosa è diventata famosa? Pipi l'hanno obbiato! Cioè, manco io ce l'hai? Hai capito come mi sento quando ti vedo così? Precisamente. Con questa parte. Eeeh! E che no schiova! Eeeh! Nostro cameriere! Che ci porta! Che ci porta sempre piatti innovativi. Biscotti per ragazzi che si sentono tutti. Ricchiera? Come sono? I galletti. Ricchiera? No, grazie, non ne vogliamo. Nessuno? Nessuno. Allora sai che cefazzi di macino? Tutto è cefazzoso al amotoico. E che c'è? Un ciecca di Ante! Forza, diamanti via! Cultura! Ante! Sicilia! Con la nostra guida! Attention, please! Look in me! Look in me! Oggi visiteremo questo bellissimo sito archeologico bizantino. Sì. Da questa latata la rappresentazione di un paese che faceva parte dell'impero bizantino ma non sapeva se rimanere o meno. Poi vide Afghanistan, Turkmenistan, Pakistan e pensò, qui tutti stan, stiamo pure noi. Ci scusiamo per il disagio. Da questa latata il ritratto di un dentista bizantino che si lariò in matematica cambiando la proprietà commutativa dell'addizione in. Cambiando l'ordine degli addendi il dentista se ne accorge. Ci scusiamo per il disagio. Dalla latata di fronte a voi delle bellissime lastre di marmo incise e decorate dedicate ai faraoni chiamate anche stele. Ma che per motivi di tempo purtroppo oggi non visiteremo. Perché come dice anche la canzone, le stele sono tante milioni di milioni che sono dei faraoni. Ci scusiamo per il disagio. Attention, please! Look in me! Look in me! Il pubblico è pagato, ovviamente ride così. Ricchiale! No, ecco! Ricchiale! La buona! Polizia, pazzo! Cioè adesso vi mettete a rubare pure dentro le cucine del ristorante! Non abbiamo mai rubato! Ma poi tu! Posso capire che ti porti le bottiglie di vino pregiato! La cucchia di ligno che ti andrà a fare? Io sì, cucchia di ligno! E' un euro pure! Valle cucchia di ligno! Valle che scende il contro! Un minuto, collega, perché se niente mi svegliavo con me e le schiena, l'allucinante! E' sempre una scusa! Avete droga? Ma quale droga? Avete armi? No! Avete una volta dentro! Ma che c'è? Ma che c'è? Ma poi te la passi la volta, ne scendi e controlla! Va bene! Controlla così ti rendi contro! Fatti consolare di una cosa, sempre la stessa storia! No, l'ho bevuto! Ora facciamo un test, abbassati! Guarda! Allunga il braccio sinistro! Sì! Allunga il braccio destro! Sì! Alla grande! Mi fa male la schiena! Ma te che c'è qua? Questo qua? Entra, cosa? Attacca la schiena! Qualcuno può ripensare? Accoccia! O te non gli una boffa, sghiccio, trovo a sopare la bronchite! Ma come? Come fai a farmi venire la bronchite? Lo spruzzamento raro! Allora, lei neanche... Le voglio spiegare, perché poi lei è sempre un pochettino... Lei non se lo può permettere di essere violento! Sì, tu non ti ammascare! O te non gli una boffa ti faccia diventare una statua! Tipo... Celebre! No, puoi fare da cagare di palom! A costi di asperaggio! Ma tu stavo spregioso, senna! Vabbè ragazzi, stiamo perdendo troppo tempo! Avante! Troppo violenza! Documenti, forse! È sempre la stessa storia! Quella cosa assurda è che io mi porto sempre il documento mentre sto presentato! Lui c'ha un cugino cameriere! Antonino Matranga! Sì, le manole me ne fai! Ah sì, li conosco! L'altro giorno eravate a Luna Park! Sì, sì! Bella Luna Park, tantissimi giocatori! Però ti consiglio di non metterti mai nella casa stregata! Se a me ti prendo un colpo! Quello tu me ne fai! Non ti metto mai nella casa stregata! Perché mi prendo un colpo? No, ti prendo un'azza pagliata! Ahahahah! Vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè! L'orgoglio musicale di Sicilia Cabaret! Un uomo, una donna stanno insieme! Lei è la mia amante! Lei è la mia? Vabbè, no? Lei è la ballerina e ci tiene a dirlo! Loro sono i Badabume! Basta con questo centro commerciale da stamattina! Non ce la faccio più! Mamma mia, ancora un'oretta! Edda, signore, che cammino sto morendo e tu lo sai! Rilassati, eh! Eh, rilassati! Ti devi sempre lamentare! E c'è! Tu non mi accontenti mai! Sì, abbiamo comprato un sacco di cavolate! Guarda che belle queste fresine! Le fresine! Mamma mia che sono dulci! Io e classe voce! Ma perché scusa, ho preso soltanto cose utili! Piccai se la mappina! Serve! N'avevo cinque mila! Ehi! Ma poi che tenna a fare lo reggiseno! Che bella culla! Non ho un penne picchio! Ma come? Se ne manca pure un picchio! E il suo duro! In tasca io cinque euro! Sei proprio un mozzo nero! Regalami una cosa! C'era una cosa buona! Cosa mi hai comprato? La cotta la muse nuola! Come ti permetti! Non me ne frega niente! Prendiamo quello che c'è da prendere e usiamo il conto! Non hai capito? Un conto in banca già! Tu sugo! I say! I Bada Boom! Talk Talk Messaggio Sociale! La nostra società maschilista ci ha sempre fatto vedere la donna come un oggetto sessuale! Ma dobbiamo ricordarci che le cose più importanti al mondo sono femminili! Come l'aria! Come l'acqua! Come la terra! Ma soprattutto che la donna è la mamma della creazione! Madre natura! Quindi smettiamolo di vedere le donne come se fossero oggetti! Facciamo un applauso perché questa è la cosa più bella e in italiano che ho sentito finora! Bravo! Questi sono i messaggi che dobbiamo dare a Sicilia! Ma come sei vestito? Un spogliere di sapere i film! Stasera faccio davvero 3,6-4 sgallettate! Ciao! Ma che schifo! Adesso è arrivato il momento di presentare l'estetista più brava del mondo! C'è Tivuoma! C'è Tivuoma! E' la più brava del mondo! Perché solo con questo! Cos'è questo? Io sparmo la cera! Sparmo? Sparmo la cera! Scippo le pila! Le pila! E ci ti vuol dire che non è pure i milinciani! Ma che schifo! Vengono bene, bellissime! Ma voi se le mangi! Ma che schifo! Ma la sua specialità, signore e signori, è... Pittare le unghie! Guardate che unghie spettacolari che c'ha! Perché io nelle unghie ci faccio le opere d'arte! Tra le che c'è qua! Sempre questo! Tra le che c'è qua! Vedi questi? Questi sono i panni stessi di casa mia! Ma veramente io non vedo niente! Perché si buttò via tu? Se non può buttare niente! Ma com'è possibile? Speriamo che si trassi un'emozione! Ma che si trassi io? Dopodoro nemmeno l'ugna c'è tua macchina! Tutti i maubi avevano un sacco di roba! Va bene, un sacco di telefonate arrivano al centro di CETI Woman! C'è pieno di clienti, io lavoro un sacco! Vai, sentiamo! Senta, signora Woman! Io l'altro giorno le ho chiesto un tipo di crema e me ne ha dato un'altra! Le ho chiesto la maschiera nera e me ne ha dato un'altra! Allora si vede che parla al contrario! Devo chiamare un'alcestetista? No, signora, se parla al contrario è a chiamare l'alcestetista! Non lo voleva dire questo! Come no? Vabbè, un altro, un altro, un altro! Lavoro, forza! Sentiamo! Ciao, CETI Woman! Senti una cosa, siccome ho le occhiaie, e io gliel'ho detto a mio marito, e lui sai cosa ha fatto? Ha uscito il cetriolo e me l'ha appoggiato sugli occhi! Giusto! Che mi dice? Casomarito è un bai sasunato, signora! Il cetriolo si mette sugli occhi! Ma c'è una cosa da dire? Ma io la c'è una cosa da dire! Ma io la c'è una cosa da questo mestiere! Vabbè, facciamo lì! E lei forse sugli occhi si pubblicizzi e se ne vada! Vi approfitto di questo bellissimo pubblico, mi pubblicizzo! Ti devi fare il trattamento della pelle? CETI ci mette i GEL! Ma non è GEL! CETI VUMAN LA SAFARA MIA CETI VUMAN Musica! Musica, musica! Yeah! Eccolo la buona volta! Eccolo la buona volta! Ditti la corsa, su da un cammini, ma di spunti io, su da un cammini, su da un cammini! CETI VUMAN LA SAFARA MIA CETI VUMAN Non devi bere! Non devi bere! Ma non è educativo! Eh, vive, sotto la tua è pagione! Ma non è educativo! Ma non è educativo! Vabbè, si presenti! CETI VUMAN LA SAFARA METTO UN CAVALLITTO! Io sono De Zè! Sei! Tre trani di rock e rock! CETI VUMAN LA VEI CAPITO! 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 Èרse DA MA MA SU FIORENTINA! CETI VUMAN LA VEI CAPITO! CETI VUMAN LA VEI CAPITO! Giugli, giugli dello del lago ! Capitano le cose ! La canza musica ! GIGLI Feeling could you hear a zombie ! Maria, ma ce non noce di esempio.... NONjen oxe pe Kick finalement!! Sarà che sa BXH Fiorentina! Siamo a Palermo!! Allora ho parla qui la fitta x kè .... Come fai a scambiare la fiorentia? Li scambi, li scambi, li scambi. Non ho capito. Va bene, dai. Io ho fatto concerti con chiunque. Chiunque. Ultimamente sto lavorando con i Metallica. Famosissima band. No, ho che le carri cogliono ferrovia. Ciao, Firenze! Ti chiamo Metallica. Senta, senta! Allora, che cosa vedi? Veramente con questa calza? Un calzo. Benissimo. Senti, ma perché siamo qua e non possiamo stare a casa? Noi siamo in questo museo. Così rubiamo un'opera, ci facciamo un po' di soldi e finalmente ci sposiamo. Ma chi c'è il ridere? Cosa? Oh, niente. Senti, ma tu sei sicura, sicura, sicura che questo qua è proprio un museo? Ma perché? Scusa, dove siamo? Capare che siamo un ospizio. Mi chiamano nonna e c'è zilla, oh. E mia nonna morì io. Vai, piano! Anascio! Benissimo. Allora, da questo momento dobbiamo sceglierci dei nomi in codice per non farci riconoscere. Benissimo. Allora, facciamo che tu sei zucca, perché la testa è vuota. E invece io sono... C'è punta. Perché? E ti fa cancere. Vai, piano! Ah, no, asciù! Che c'è? Che c'è? Che hai visto? Che c'è? Che hai visto? Ho visto un'opera di Archimbaldi. Archimbaldi faceva i ritratti utilizzando le verdure, capito? Che così usava i fagiolini per fare le sopracciglia. E la pera per fare il naso. Buona! E poi i pomodori e le favole. La lascia la faista, dai! Guarda che quelle verdure hanno un valore inestimabile. Che c'è come il cateno con cinque ore dove ne vanno sei casce. Inestimabile. Fai, piano! Ah, lascio! Benissimo. Sì. La vedi quella porta? Sì. Qua dietro si nasconde l'opera che dobbiamo rubare. Sì. Hai portato il piede di porco? No, però ho portato questa. Ma questa è una costoletta! E ma rupo il conseccaniante. Sei un cretino! Adesso come facciamo a rubare l'opera? Ci penso io! Scassinero la porta! No! Dai! Sei casì! Oddio! Oddio! Quello è sicuramente la gente sacchetto! Come fai a sapere che si chiama sacchetto? E fai a sapere che si chiama sacchetto! Cosa ridete? Che ridete? L'ho inventato io allora! Ma ragazzi, sicuramente potete dire quello che volete ma non potete obiettare che il successo di Sicilia Cabarea ormai ha spinto le aziende di tutto il mondo a venire a pubblicizzare i loro brand. E noi abbiamo selezionato attori di grande fama per fare da testimonial! Non ci accontentiamo! Non ci accontentiamo! Non ci accontentiamo! Non ci accontentiamo! Va bene, come se l'avessi fatto. Senta, quel ciuffo è sempre così per questo motivo. Ma le esperienze ne ha? Ho fatto un film dove facevo il meccanico per Santa Lucia. Che film è? Arancina meccanica. Va bene, non è solo. Fortunatamente ho fatto l'attore e ci sono... No, questo... No, lei no! Lei no! Io devo lavorare. E siamo qua. Bravo, Ceddi! Grazie a Sani. Come lavorare? Come lavorare qua? Come lavorare? Lo so. Va bene, allora questa è una cosa molto particolare perché dobbiamo pubblicizzare una tisana che ha proprietà sonnifere. Quindi è importante. Importante, sì, è importante. Facciamo entrare la tisana perché è importante perché questa azienda ha sborsato un bel po' di soldi. Sì, la tisana? Sì. Ma questa chi è? Questa chi è? La ballerina che porta la tisana. Non si può impoppettare. Allora, versa un po' di questa tisana. Cosa? Non si può impoppettare. Versa un po' di tisana e tu non dovrai bere, non dovrai bere, dovrai a dire a lui vuoi dormire? Assaggia questa. Va bene, non c'è problema, questa è facile. Tu dovrai rispondere questa tisana fa sognare. Questa tisana fa sognare? Eh no. Questa tisana fa sognare? Non c'è bisogno di fare, non siamo al villaggio. Questa tisana fa sognare. Che fa? Buongiorno! Che fa bene? Ma non ho bevuto. A me è tutto a posto. Ma che fa? Ti ha bevuto? No, no, l'ho detto assaggio, assaggiato. Lei viene, non deve assaggiare, con questo avviene sonno. Viene sonno, sì, sì. Immediatamente. Allora. Questa tisana fa sognare. Sì, sì, sì. Ok. Questa tisana... No, eh, ho fregato. Vuoi dormire? Dai, ragazzi, per favore. Vuoi dormire? Assaggio a questa. Questa tisana fa sognare. Questa tisana fa sognare. Lei me la deve fare dritto. Questa tisana fa sognare. Questa tisana fa sognare. Perché fa queste cose stupide? Questa tisana fa sognare. Va bene, poi... Oh! Sono a sveglia! Ma quale sveglia? Non sei zuta! Ma che cosa... Non sono a sveglia. Lei deve evitare di bere questa cosa, capito? Sì, non lo evitare perché se no mi ha dormito. Buongiorno. No, mamma, non ci voglio andare a scuola. No, non ce lo so. Chi è lei? Ehi! Allora, spingi di verso lì. Questa tisana fa cantare. No, questa tisana... Ah, fai una nanna, per favore. Questa tisana fa sognare. Questa tisana fa sognare, ok? Tisana rilassante e io vado a comprarla. E tu? Questa è la battuta che faccio io. Un po' paura, lei non si preoccupa. Ehi! Se si gara l'occhio solo solo. Vada, forza, non beva cortesemente. Questo lo tengo io. Questo lo tengo io. Lei dovrà dare solamente un sorso. Un sorso. Quando... Questa tisana... Questa tisana fa sognare. Aspetta, padre piglio. Vuoi dormire? Assaggia questa. Vai! Questa tisana fa sognare. Chuck, vai con la prima. Allora, vuoi dormire? Assaggia questa. Però mettete da pennaritti perché non sarà bella. Lei non deve dormire. No, non deve voler dire. Aspetta un attimo. La rifacciamo. La rifacciamo. La rifacciamo. Allora, chiede un attimino, per favore. Questa tisana fa sognare. Questa tisana fa... Questa tisana... Me la vi rientra pure. Vai! Cerca di stare sveglio, Artillo! Forza, vai! Ok, vai! Me la vuoi dare un'altra? Non vedevo l'ora. Vai, mi prendiamo. Prendiamo, prendiamo, prendiamo. Io sono! Allora, vuoi dormire? Assaggia questa. Questa tisana fa sognare. Tisana rilassante. Io vado a comprarla. E tu? Io mi stanno a cuiccare con ce la faccio più. Scusate! Ma riuscite a fare un po' di babbo. Ho tutto nemmeno essere picchiato con la pennolecchia blu. Invece la ghiottilla ma passavo un mucca. Un sacchizzano tutti i denti. Ma riuscite a fare un po' di babbo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Un momento stori dedicato ai pezzi. Ricordiamo che Sicilia Cabaret nasce nel 1964. Sì? E muore quest'anno. Va bene. No, 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 no. E quindi questi pezzi. Perché tutta la gente, quando andiamo in giro per strada, lo sai cosa mi dice? Cosa ti dice? Da le cucce! Questo è ancora vivo. Questo è vivo. Dal 1977. Voleva fare un vecchio, ma ci diceva che mascarata. Da le cucce! Il povero matranga che mischino delira perché ha la febbre a 40. Io non ho la febbre a 40. E allora sta supposta che ci ho fatto. Sì, una supposta. Sì, una supposta. Tachepirino! Ma che fa? Smettati, presta. Buonasera! Buonasera, il Mago Plip. Il Mago Plip è grande. Scusate se parlo un po' così, ma prima di venire qua sono passato dalla pescheria. Amica, mi hanno voluto offrire il caffè solo con se poteva vivere. Perché? E l'acqua è poi. Passiamo subito. E fattila, Nalla. Ha solo il bonus, lo puro dall'alarm. Ho detto un po' l'altro. E mascarato! Eh? Gianni, mi difendo io! Musente, bravo! E' mascarato! O tu sei tutto il po' oggi. Hai tu un maletto caro, capito? No, scusa, scusa. Sono taldefennio io. Il grande Udini si faceva incatenare i polsi, si faceva immergere sott'acqua e sott'acqua si liberava. Ebbene, io questa sera farò la stessa cosa, ma ancora più difficile. Più difficile. Perché lo farò senza acqua. Ma cosa c'è più difficile? Ma chi può dire? Fa loco, fa loco! Ma che fatti! Fa loco! Fa loco a laulano! Ma non so! Io invece devo... Un po' mi fa così! Devo pure respirare, è ancora più difficile. Ma non è vero! E allora, intanto toccate per far vedere al pubblico da casa che sono manette vere. Eh, toccate con due mani, capisco che tu sei abituato a usare ne una. Aspetta, bisogna sentire il rumore. Ma che perino! Bisognata, che perino! Allora, mi sa sbagliando tutta l'aria! Allora, va, finisce! Stiamo provando, facciamo sentire. Ok, è che non sentire il caso? Si sente. Nella telecamera, eccele, eccele, eccele. Questa è la prima volta che lo faccio, oggi, oggi è la prima volta che lo faccio. Quando l'ha fatto l'ultima volta? Ieri. Con chi? Con Belen, l'ho fatto con Belen. Sì, bellissimo. Allora, attenzione, il maestro dell'improvvisazione. Perfetto. Aspetta, facciamolo più stretto. Ma tu l'hai fatto male un motorino, potete sapere? Ma è così esatta quanto ho fatto il tuo voltero? Ok, a questo punto, ragazzi, postate le chiave e prendete. Possiamo le chiavi qua? Oh, le chiavi sono qua, eh? Anzi, qua, guarda. L'ultima volta è che le ho postate a un mensolo pubblico e me ne appaghi la casa poi raccossare. Così? Sì. No! Grazie. Perfetto. Ok, attenzione, una punta a ciascuno, tu con il braccio destro, tu con il braccio sinistro. Sì, ok. Adesso devi mettere il braccio perpendicolare al corpo in modo tale che all'altezza dell'avambraccio ci sia un angolo a 180, all'altezza... E metterlo lì! E che benedetto! Copia! Io lo so, lo so. Perpendicolare! Ma veramente, ragazzi, veramente! Regia, vai con la bassa. Ma che fa? In bianco e nero, tra l'altro. Ma che faccia, eh? Ma che fai? Venti, là. In bianco e nero. Tenete forte, ragazzi. No, allora... Oh, vinciti! No, non ce l'ha la forza. Vinciti, spingiti! Sì, se poi non manco per tenere... Ops! Ok, ok, ok. Allora, vedi che sì? Tieni qua, tieni qua! Tieni! Ok, dai. Ascolto! Tienilo, puletto! Tienilo! Ma non c'è! Ma già l'ha liberto! Ancora, ancora. Cazzo! Fa una cosa, avvicinati, avvicinati. Mettiti in ginocchio, metti... Mettiti in ginocchio. Fa una cosa, puletto, mettiti in ginocchio. Ma ciò si è liberato! Le mani qua, battete le mani qua. Vicini, vicini. Mettite in ginocchio! Vabbè, in ginocchio! Grazie! Il Mago Flip, grazie! E questo è il pezzo di Mago Flip! Sta battuta! No, 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 vai, sta... Tutto il suo casino puoi fare la battuta! Ma attacca la buca! Sì, tutto il suo... Sì, hai sulla vista a squagliare, ancora a casa? Dai! E allora, ogni volta che io faccio questo gioco, mi scateno. Ma che cosa ridete? Mi scateno perché... Ma mi scateno perché... E mi scateno... Una battuta dell'elementare! Ma ci faccio un pozzo! E ridi! 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 Ma che vedi, c'è gli chiacchi! Vabbè, ho capito! E non mi chiacchia! Il Mago Flip! Se la sanità funzionasse, non ci sarebbero queste persone libere. E ce ne parla Medici in prima linea. Meschino, la moglie l'ha beccato con l'amante e gli ha tagliato il membro. E tranquillo, ora con le nostre cure non avrà più dolore. Anzi, non avrà più pene! Ahahahah! Fingalo! Infermiere, stamattina sono caduto col motore e mi sono sbucciato il ginocchio. Che devo fare? Eh, una volta che se l'è sbucciato, se lo mangia. Così, a freddo. No, lo metto due minuti al microondi. Giù, ma chi ci aspetta? Allora, allora! Io, praticante, faccio le scorreggie. Ma non fanno puzza le mie scorreggie. Nessun tipo di odore. Io, magari un problema allo stomaco. Guardi, me ne sta venendo una, guardi... Visto, io sono d'ore. Ma mi devo operare lo stomaco? No, lei sapevo operare lo naso. E lì ci stiamo arrivando. Bella signora, nel tuo mare nero, nella notte scura. Totina, buongiorno. Buongiorno, Pina. Perché io mi spacca i ciguash? Perché io mi spacca i ciguash? Anima perché parla così se ti sente tuo marito? Ma che capisci, mi è un cane ziere, se scuido a spaccare i miei cospioli. Ora come ho cifilo nella pignata? No! Totina, eri sera con mio marito? Che c'è fu? Seri accesa la passione, abbiamo fatto fuoco e fiamme. No, andata sera ne finì la bomba, l'anima qui c'è il rione. Amo venita. Ah, ma bella, verità. Totina, ma rimane qua, sa? Hai rintesa la voce in un palazzo retanino, ma che so ci fosse? Non lo so. Ora ci spie a Mimma. Brava. Mimma! Mimma! Portare sali queste italiane piante, chi c'è? Ma che c'è pa mia, se sei solida? Chi c'è? Comunque, sì, tantissimo voce in una scala di Tannina, ma chi c'è fu? Ma chi ne sa che se posso sapere tutto quasi? Mia c'è. Tannina, ma di voce non è tia. Sì, non è mia. Perché noi diciamo voce? No. Ma diciamo voce? No. Non ci siamo tanto discreti. Bene, c'è tutto il conto. Un capone mio, se ho figurato la signora, come si chiama, Paluzzo, si pigliò la laurea e le sue emancipate. Ah, Paluzzo e la laurea si sciarriano e si pigliò la coi piccate. Ah, c'erano i palumi nel balcone e ci sono arrivati tutti i cacati. Che schifo tutti i cacati, ah? Ma bella verità. Ma poi i cacati poi hanno grasso. Ma perché non ci mettevano qualche cosa per i palumi? Perché non ci mettevano in spuntuna. Ma appunto, appunto, perché non ci mettevano in di luna. Oh, che ne sa, ma che sta facendo una roba in luna. Sì, sì, fissero fissare. Ora Paluzzo fa il dottore di professione. Ah, chiamate il dottore perché Paluzzo ci calò la pressione. Eh, i palumi cacavano in spuntuna e i due ci fanno in pressione. Cacetto, pure a me avessi fatto in pressione tutti questi cacati. Ah, ma bella verità. Comunque succedono tutte le cose nel palazzo, sono ingrasciate, sì. Hanno stato sempre ingrasciate, non hanno venuto come... Ma per favore. Ma, per seguito di questi palumi erano un condizionatore. Ma che ne sa, ma questo buitello dura per ore. Cacetto, rurrò tutt'anno, atto. O mi fece un rurrò, mi girava e mi ferreva lì, atto. Ah, sta ferrando perché Paluzzo ci c'è lavo più, atto. Che schifio! Se c'è lui tutto il prospetto. Ah, pure tutto il prospetto, che schifio. Sì, che poi vorrei dire che uno bico ne ci passò che andava su per lavare. Ma poi, pure essere sul prospetto non si può fare niente. Ma appunto, dico, ma per seguito di questi palumi non si potrebbe fare niente. Non lo so, te ne devi stare a permanente. Sì, a permanente. Uno vero che parrucchia è nata chi giovane, paro. Chi sei riuscendo a viaggiare il nostro parrucchiere, ancora sogno che i zoccoli. Ma non so, te ne devi stare a permanente, se vedi solo i bocchiere. Pia, i palumi ci andavano a mangiare i brocchiere. Ma che dico il sesso? C'è uno dei palumi che non beccano, ci fanno i cacati. C'è lui da uno prospetto, invece di raccoltarli. C'è uno da mangiare i brocchiere. Ah, ma per la verità. Non sono un segnale, una con tutte le stelle della vita. Ok, ok, blocco rosso, tutte le persone un po' sensibili che insomma non vogliono sentire le parolacce. Posso dire una cosa? No, grazie. Spegnete la televisione. Oppure cambiate canale per chi insomma fosse un po' sensibile alla faccia di Minafora. Andiamo avanti, dai. Vai, giupido. Eeeh, che doschi oma! Piatto per ragazze che vanno sempre in discoteca. Di chi era? Che piatto è? Il timballo di patate. Di chi era? Nessuno, grazie. Nessuno? Allora sai che faccio il cibo e il timballo di patate. Di chi è qua? Un segnale a te! Vai, avanti, vai, forza! Ah, 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 professione. C'è bene peccatori, perché il peccato è peccato. Avanti il peccatore! Padre, ho peccato. Peccato. Ho rubato. Mi peccato. Sono entrato in farmacia e ho preso omogenizzati, pannolini, biscotti. Ma che devo fare? Ci ho cinque figli. Che faccio? La prossima volta ho rubato pure un pacchetto di patate. Ma che pigli? Perché si è messo male. Da peccato, è stata per ragione. E per te sta già venire a montare la televisione Naxan Seli. Grazie, grazie. Faccio bene. Va bene. Va bene, andiamo. Ti è piaciuto questo? Sì, questo mi è piaciuto molto. È piaciuto. Ma cosa? Ti sei rilassato? Sì, questo sì. Allora hai preso gli insegnamenti del mio maestro. Ormai lo voglio anch'io. Santino il Santone! Ma dai, perché io l'ho preso in giro. Buongiorno! Buongiorno, maestro. Buongiorno. I soldi di Madranga, dai. Devo dire che sto meglio, dai. I soldi. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buonasera. No! Sera buia, tenebra. Sempre meglio la luce. Perché? Nella luce vedi chi hai davanti. Nel buio stai attento a chi c'è dietro. Non si può sembrare. No, però si può sembrare. Sono degli insegnamenti che se uno li ascolta bene. Ho capito, gli devo dare i soldi. Dai, li tieni. No! No! E' il denaro che fa cadere nell'oblio. Ok, allora lo prendi. Mi si rubo io, pettino. Non si può pensare. Dai, ma che rispetterebbe? Gli insegnamenti da me. Oggi vi voglio parlare dell'importanza di ciò che mangiamo. Noi siamo ciò che mangiamo. Cerchiamo di imparare. Infatti, vi cito il passo di un grande dialotogo. Dietologo. Dietologo. No, dialogo. Dietologo. 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 Uno. No, no. Va bene uno. Dottore, magari. Sì, ti ha. Gelato al cioccolato. Ma questo è... Dolce o un po' salato? Tu, che minchia hai mangiato? Non si capisce. Non si capisce. Ehi. Ehi. Karma. Cacarma. Ma perché le hai dato 50... No, ma vi sa... Eh. Questi soldi. Ma ha chiamato pure tua zia intrigante. Dice, tu prendi i soldi a mio nipote. Tua zia intrigante. Tua zia stricca naso. Stricchia naso. Ficca. Eh, tua zia ficca. Ficca. Eh, zia. Naso. Ficca naso. No, pure, pure, naso solo. Karma. Cacarma. Ma poi mia zia, giustamente, non penso di sì. Spero per lei. Mi feci 5 cucini. Ma io 5 cucini. Sì. Mi lascio con questa per la desagenza. Vai, grazie. Se la tua ragazza t'ha lasciato per rabbia, era nervosa. Sì. Se t'ha lasciato per noia, era delusa. Sì. Se t'ha lasciato per un altro, era zoccola. Questa è Santa Verità. Vai, sarà qua. Verità, verità. Santa Verità. Musica. Quella che piace a me. Quella neomelodica. No, no. Con Salvo. Zaudo. Il momento più basso della sera. Guarda, buba. Ma quanto è bravo, quanto è bravo. Quanto è bravo. Ma io questo pagare gli oro per essere come lui. Sogno tutto eccitato, picchista si recandare in dinaddì annubilato. Immagino che succede. Mi chiamano più una festa, con film in una tempesta, e mi misi sopra la vespa. Brum, 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 brum. Magico. Ho parlato con mia gente, mi risso allegramente. So di nonni pigli e tu. E non ci sei andato, immagino. Ma 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 ma. Bra, non ci andare. L'importante è che stasera faccio tanto su e giù. Ma che schifo! Ma no, dai. Io mi aspettavo, donne allupate. Invece erano maschi truccate. La cosa sola capi in un minuto. Si è capito in un minuto. Io per fottere e fui fottuto. Movimento belfico! Ti salvo! Giusto! Sei la vergogna di Catania! Sei lo schifo di Littrino! Lasciò stare un professionista! Un professionista! È un professionista! Facce bene peccatori! Perché il peccato è peccato! Avanti il peccatore! Non c'è nudo! Peccato! Mi confesso io! Mi confesso io! Che fa? Padre! Ma che hai seguito adriano? Grazie a questa si chiude! Sola! Padre! Manca la pezza di rapera! Ma che è? La bichia può farmi in questa cosa! Padre! Mi sento una fede che ne puoi cominciare! Padre, ho peccato! Peccato! Ho tradito mia moglie! Mi peccato! Sono stata a letto con tre ragazze contemporaneamente! È peccato! No, questa faccia è merata! Che per te sa c'è Maria! Questa mia volta poi to' femmino perché c'è un ciclino di noi! Facce bene figlio! Bravo padre! Va bene! A questo punto sapete che il momento più basso della serata è stato tocca! Acqua minerale, pizza, coca cola, succhi! Oh! Oh! Suokhi! No! Suokhi! Ho capito! Come ho capito? Suokhi! No, ho capito! No, ma quella è grande! È una vergogna! Oh! Oh, Giappone! Le multe che ci ha fatto prendere! Però è ignoranza! Dai, diciamo che è ignoranza! È ignoranza! Parliamo all'editore, parliamo al pubblico che sta querelando a mai finire, questa parola mi dispiace dirvelo, ma lo diciamo chiaramente, questa parola in giapponese vuol dire amore, suokhi! Giappone ci dice, vorremmo dire suokhi, a capotare! Cioè, ci metto carlo! Vuol dire amore! Amore! E vogliamo dare colpa all'amore, signor? No, non ci può dare! Che il vocale è l'amore! La mia azienda si chiama Suki Amore, e diciamo, però per evitare quivochi, signor, abbiamo fatto il nostro sito internet, dove dentro questo sito c'è scritto l'atoria, le origini, i prodotti, i ritoranti, nuove petture... Bello, si può entrare in questo sito? Sito Suki, puoi entrare! Cioè, come fa? E fa il sito Suki, scrivi! Eh, no, non fare il gesto! No, dico, se metti amore! Sito Amore, ci vuoi entrare! Non devi scrivere Suki, Sito Suki, se non vuoi entrare, signor! Brava, brava! Ora, questa settimana parliamo di canne! Di canne? Suki, brociolone! Ah, canne! Suki, brociolone! Perché è buonissimo! Diretto e pesante! Perché? No, niente, equivocato! No, io voglio dire una cosa importantissima, ci butta gente che parla senza tapere! Oh, ma queste canne, chissà da dove vengono i loro cani, chissà gli animali, e loro hanno un macello! Eh, noi abbiamo il nostro macello, signori! Ce l'hanno? Sì, e tutti quelli che parlano male diciamo, macello Suki! No! Perché? Macello Suki nostro, macello personale, dove teniamo cose! Ok, no, così però detto sembra... Va bene, non si preoccupi! Cosa sembra? Non si preoccupi! Lei comunque è veramente equivocato! Arrucazione! Io sono sto... Arrucazione mia! Arrucazione! Io ce l'ho educazione! Eh, ma che vuole? No, il mio assistente a domicilio si chiama Arrucaziong! Ah, no, no, questo è forzato! Arrucaziong! Tafile, compà! Arrucazione! Più libero! Ma come? Il giappone su Tafile! Comunque io sono qua, ho portato Suki qua, mi ha detto il mio assistente di portarlo a Mickey Rourke, e io ho portato qua! Mickey Rourke comunque è una persona sola! Quindi ho bagliato! Eh sì! Mi fai chiamare qua! Scusate con la gente! Arrucazione! Ho sbagliato l'arrucazione! Sì! Licenziato! Ma io chiedo scusa, il nome di mia azienda! Chiedo scusa! Abbiamo bagliato e quindi Sucate! No! Scusate! Con la C! Ah! Sucate C! Vabbè! Lasciate! Io vado, quello che è bello! Abbiamo aperto Punto Mendi in Sicilia, a Ragusa, in un piccolo paesino a Comiso! Sì! Solo che la gente viene a questo ristorante però non sa come mangiare e noi gli spieghiamo come mangiare il prodotto! Che cosa le chiede? Comiso Succhi! Comiso Succhi! Sì! Che domande le fanno! Che cosa le chiede? Se le ha alzate! Che domande le fanno! Sembra che stiamo facendo la parola! Perdonami Gesù ma io non voglio dire parolacce! Maledici! Non le dico! Non vedi neanche dire questa parola! Succhi vuol dire amore! 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 Sì! E' lui! E' lui! Avere tu sapete qual è? Qual è? Non c'è chiul respiro! Lo sanno! Lo sanno! Lo sanno! Lo sanno! Chi è? Usanzale! E mi fa dice in confidenza ti voglio fare una domanda! Dice ma com'è che fra tutte le città del mondo hai scelto Palermo? Ma che c'è in ogni luogo sulla terra è casa mia! Mi fa dice allora quanto pagheremo? Perché lei ha origini siciliane? Sì! 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 Io sono Gesù di Nazza! Ok tutto chiaro! Va bene! Quindi questa cosa della... Mi fa dice appunto ci sono il luogo sulla terra è casa mia! Dice allora quanto pagheremo? Dice ma chi c'entra la terra? Mi risulta come ho prema casa! Ok! Dice è il paradiso! Ci senti che sta da me parla! Ho sapere chi un niente? Dice no ma ti ho chiamato perché ancora adesso mi sono pagato il mutuo C'è stato molto poche parole a vicino nella mia cucina e chiede che va alla banca E chi è? San Paolo! Ah San Paolo! Appena arrivavo chiede due mesi di manuntese e dice il tuo conto è il rosso C'è stato ma com'è? Dice che tu stai nato signore tuo pagato signore tuo pagato signore tuo pagato i piccoli sono stati finiti! Ma hai ragione! Hai ragione! Magico! Ma comunque c'è stato il sogno nel bosom e il navale Voi dire arrivato nel mio e mi scassero pure la casa C'era uno dentro e dice Ma chi sta facendo piccoli? No! Dice chissà che se è Gesù Dice che cosa sono niente? Adesso stavo ben sassato Ma vedete lo sapete qual è? Lo sappiamo! Non cerchi un rispetto! Accompagnalo a casa tua! Fai lo consiglio a casa tua! Perdonaci! Non sappiamo! Andiamo avanti! Subito dai! No! No! Oh! Ma chi fai? Ma cosa fai? Oh vezzo lo vai bene! Ma cos'è? Ma che fai? Non sai vai bene quando togli i capelli e si appoglia! Eh guarda dove ti appoglia! Sono parru! Sono chiere! Sono parrucchiere! E sono qui per farti il... Il look! Oh chi è? Ma chi è? Ma chi è fuoco a questa casa? Ma mi feci di scantare! Mi saltavo un'altra l'aria! Tu immagina il mio mucchio l'ha parlato con la luce! Pam! Ma finisci! Guarda fammi i capelli! Vieni qua che ti faccio i capelli! A me i capelli me li fai extreme! Sì apponta le tue natiche baby! Non ne ho natiche! Ti metto questa cosa pittonata che a te ti chiamo una regina! Regina di chi? Risipiente! Ma finiscila! Stasemana c'avevo tutta la settimana pure lunedì! Fammi stiracchiare l'antichio! Ma tu non ti puoi stiracchiare all'altra parte! Adesso lo vai bene! Ho capito! Sai calma non ti preoccupare che ti faccio la barbetta! Oh ma che mi sei mettendo il timometro! Finisci! Ah 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 ah! Fate congiullare il suneo con me piace! Ma che cosa? La sensibile che vuoi! Ma che è la son dai! Comunque compadre! Sì! Ora che siamo in confidenza ti saluta la mia cucina! Quella? Maddalena! Quella? Maddalena ho vigneto! Ma perché la chiamano vigneto? Di chi non salva me la faccia! Ogni botana all'occhio ci sfonda uno grappolo di racina costa di sapoittare! Buah! Un po' capire quando chiangere pare scia di donè! Che schifo! Comunque compadre non sono qui per parlare di mio cugino vigneto ma per farti il look e quindi se ti ci hai messo la base Ok! You've been hit by You've been hit by You've been hit by A smooth Questo look l'ho chiamato non arriva a fine mese Ma questa è una candela! Eh picchio mi tagliare la luce! Va bene, dobbiamo ringraziare coloro che curano il nostro outfit Kaufman e per quanto riguarda invece il parrucco Extreme sono i due sponsor che ci hanno dato la possibilità di fare anche questa puntata che è giunta alla fine quindi possiamo Casugno! Non è finita ancora Masanga! Vi ha portato Piero Tenze! Che è reso un pannicchio! Stato sera ci sono anche dei giornalisti qui cioè per favore scrivi Eh vi chiappo! Grasso scrivi, fammi la cortese scrivi che noi non vogliamo fare un programma diciamo così scatò è la gente che è proprio l'orecchio io l'avevo buttato fuori nell'86 e ancora continuano a richiedermi questo schifo E zitto da fruta la pongo, ancora da scopo Scupi tu papà te la pongo, pongo qua Parapapapà Poesia! Bravo Piero Tenze! Un pezzo che a Ficarazzi non capiscono Provincia di Palermo che si capisce in tre quartieri della città E io dove Ferriano? Tre quartieri! Le ambizioni di quest'uomo Ondulatorio sussultorio E da quest'anno Rotatorio 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 Bravo Piero Tenze! Artista completo signor Matranga! È stato chiamato pure per fare un concerto a titolo gratuito da Amedeo Minghi e lo sa che ha risposto Ma che amiche? Lo posso guidare Sogno troppo forte Sogno un'ambe wine Ed è troppo forte Tu non sei bagnante Guarda, guarda che verore gente che ri C'è gente che ha questo pezzo veramente poco C'è veramente disgustoso Ridate Ah però No, lei veramente Un po' un trash Un po' un trash Un po' un trash Un po' un po' un tascio Un po' un po' un tascio Ma roido Avevo l'era nella sacchetta e si sente un uomo distinto Distinto tirassero un po' Adesso se ne va nei ristoranti di classe a degustare le pietanze intercontinentali Ma bisogna farsi una cultura Abbatuato, c'è Tu lo scuidai se quando tu so cavolo vuoi te pareva la caibonara Che è? Ma è giocato? Solo che l'uomo Per ridere Sono più bella la caibonara Ma non ridere pure tu, per favore Grasso, scrivi un articolo Le, fai finta che non esiste questo cuore Che schifo Dai, adesso la cosa a memoria C'è gente che sta vomitando nel frattempo di compensare C'è anche gente intelligente che vomita Grazie, TVB Vai allora, dai, forza, la cosa a memoria Rimanendo fermo e convinto del mio talento palese e inquantificabile Ignorerò le sue critiche Rimanendo l'asso sul suo giudizio inopportuno e scorretto Bravo Grazie Grazie A memoria Questo non sa neanche cosa vuol dire Poco te onci che la faccio l'angelota te onci Vabbè ce la faccio la... Questo non sa cosa vuol dire neanche palese Ma vai a quel palese che... Ha 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 Te fottivo, ma c'è Iè, t'ai sottato T'ai sottato Ma io che fiorino Guarda Ia Ia Lo metti le cerchi, va bene dai E questa sera ho portato un brano a tipo quelli che facevo l'anno scorso Dedicati al presentatore e allora signori cominciamo con la coreografia e tutti appresso a me Tutti dietro di me Attica ti piace lo spaghietto? E spaghietto! E vavoso! E licuto! Sono due dementi ragazzi Vai, vai, finisci questa cosa dai Posso dedicare i brani? Il brano è dedicato al signor Matang che si sente bied e vuole fare un fotomodello e va levando un pane chissane a tipo come me Manco potono mangiare Lo possono fare veramente perché i canoni di bellezza sono i miei Quali sono i canoni di bellezza quelli che bisognerebbe avere dai Per esempio Taliesse Palettone E alle femmine ci piacciono i mozziconi Ma che bella la panza La panza è bella Uomo di panza, uomo di sostanza Allora abbiamo il brano dedicato a Matranga, musica maestro Ma mi raccogli quanto sei l'ario E volesse fare un calendario Quando devi che io mi schifiavo Potai rispare quanto sei l'ario Che è? Bravo Piero Tense! Un artista bello, simpatico ma soprattutto divino Divino che vuol dire? Divino un peatata bene la venne Questa settimana il nostro Stefano Piazza è stato a Catania A chiedere quello che ci chiediamo tutti Dov'è il punto G? Non me la sarà Il punto G, dove lo troviamo? C'è la mia ragazza qua davanti, non glielo posso dire Sulla donna lo possiamo trovare Vietnè alta Bellini, qua mi vuoi sulle vietnè Ma Bellini come punto G me lo indica? Sì, non la so aiutare Mai avuto a che fare? No, no Lei non c'è mai andato? No, perché Catania ha tanti punti G Il classico punto G Può mangiare buono? Sì O tenendo la calabresa? Non lo so, forse non c'è nessun posto Vi invito ad andare all'Etna perché lì c'è un punto G Punto G è il punto della gioia Toccate con mano? Con la mano loro Con la mano loro Con la mano loro Con la mano loro C'è chi va in tram, c'è chi va in macchina E c'è chi va a mano Beh, Catania non è che ha un solo posto C'è molto da vedere Lei dice che non c'è solo un punto G ma ce ne sono tanti Tanti Punto G? Ma ce ne sono tanti posti dove si mangia bene Il punto G maggiore che le conosce qual è? La festa di Sant'Agata Mangiare i pisci e te ne vai alle tre bocche La zona è via più uscito Non solo in via più uscito alta ma in qualche zona anche più bassa Quindi il punto G è più in basso Questo non lo so che è il punto G Che vuol dire il punto G? Il punto G è a corso La ruste che mangia va Non lo so che cos'è il punto G? C'è un fuoco, fuoco, carne, salamare e che mangia? Il punto G lo tocchiamo? Sì, il punto G lo tocchiamo Il punto G che cos'è? Sto dietro per mi fanno sapere anche a me Vi invito a venire a vedere il punto G a Catania No, quale punto G non è neanche il punto A perché non lo so Monumenti, spasse per Catania Venite tutti a Catania a trovarci al punto G che si mangia spettacolare Dove posso trovare un artista da zona erogena? Sono un artista Canzone erogena di Danilo Ventura Io senza sedi non sono niente, non me la so Lei non è mai stato né nel punto G No, non la so aiutare E questo è molto molto grave E non ha mai conosciuto le zone erogene? No Venite qua al punto G che ne sbagliamo tutti i paesi Niente, completamente? No, no, mai Single? Sì Eh beh, per forza Ballare, ridere Lai, 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 lai... Grazie Eh, grazie no Io stamattina mi sono svegliato Visto che c'era il sole Ho pensato Finalmente è arrivata la primavera E mi sono ricordato Di tutti quei siciliani che dicono No, non mi piace l'estate meglio l'inverno, meglio l'inverno, ma noi non siamo fatti per il freddo, tant'è che le nostre espressioni sono sempre negative quando sono legate alla pioggia, al malo tempo, già la stessa parola tu dice malo tempo, vuol dire che non promette nulla di buono, tant'è che un palermitano se si innervosisce, lega le cose e ti dice, così, l'ha pegato mai una tempo e sei un po' lad? D'estate è tutto molto più semplice, cammini per strada, devi fare il tuo bisogno fisiologico, sei in pantalogini, il primo albero che vedi, vai, e nessuno ti dice niente, anzi ti dicono è normale, d'inverno te la fai di corsa, arriva al bagno, te levo cappietto, te levo sceppa, te levi in guante, te levo giubbotto, ti uso maglione, te lavo cammisa, te cali i cavos, te levi in mutande, non ce l'ho fatta, esci dal bagno e ti sento le acchie due case visce di sopra, per strada cammini tranquillo d'estate, d'inverno improvvisamente scoppia la tempesta e trovi tombini attoppate, tombini stoppate, strada scassate, i fiumi d'acqua che ti spuntano tra i piedi cattolici, ma non ne sogna a Venezia, e quelli con le macchine che passano che se ne fottono e ti schizzano addosso questa onda di acqua fangosa che tu arrivi a casa che sei color marrone fango, ma qui il problema non sono né le strade scassate e neanche l'inverno, qui il problema è che ci sono troppo fanghi e me ne sassata. Se fosse stato per l'inverno, Baglioni non avrebbe scritto quella sua maglietta fina tanto stretta al punto che immaginavo tutto, avrebbe scritto quel suo cappotto pesante di lana tanto spesso al punto che mi si è ammosciato tutto. D'inverno ti dicono vai a fare la settimana bianca, anche io faccio la settimana bianca, ma quale settimana bianca con quel freddo vuoi dire che diventa tutto neco neco che stai assai di fare la settimana in bianco, tant'è che come si dice, c'è un freddo che a carenace di moite. Malgrado questo c'è gente che ha il coraggio di dire, e comunque è meglio l'inverno, perché d'inverno se c'è freddo ti copri, ma d'estate se c'è caldo che fai? Che fai? In Sicilia, in Sicilia se c'è caldo ti vai a buttare al mare, e se ti piace l'inverno sai che ti dico, ma venga da mare! Stefano Piazza, la nostra forza pubblica, e tutti i comici di Sicilia, come l'è? Con Stefano Piazza si conclude anche questa serata che non è la l'ottava, io sbaglio sempre, ma è la nonna puntata, la tredicesima, la nonna puntata, ce ne sono altre cinque, un c'è la fazzucchio, bene! Però sempre insieme, tutto il gruppo, andrà avanti per finire, anche questa esperienza, targata Sicilia Cavale! Sottozzo, sicilia Cavale, lai, 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 lai Grazie.